Love is in the air, trama puntate, giovedì 16 settembre 2021. Eda sta male all'idea di essere in qualche modo la responsabile della prigionia di Serkan. La Ildiz si reca dall'architetto e i due vivono momenti di grande amore, anche se separati dalle sbarre. Una volta abbandonato il carcere, Eda si lascia andare alla disperazione, all'idea che il suo amato dovrà restare in prigione per diversi anni. Disperata la paesaggista, inizia a sentirsi molto in colpa e così prende la decisione di sottostare al ricatto della nonna. Anche se distrutta, Eda fa sapere a Samika che può dare per scontato che la relazione tra lei e Serkan sia ufficialmente conclusa. La nonna si accerta che queste parole siano vere e fa immediatamente cadere i capi di imputazione contro Bolat. Poco tempo dopo, quest'ultimo viene scarcerato. Intanto Jeren e Ferit si avvicinano sempre di più. L'ex fidanzato di Selene ammette davanti alla ragazza di provare dei forti sentimenti per lei, che nulla hanno a che fare con quelli che aveva detto di provare all'inizio. All'art life arriva un noto principe arabo, bello, ricco e dai modi affascinanti. Eda stabilisce subito un rapporto con lui, ma si tratta di un'altra macchinazione di Samika, dato che è stata lei a farlo arrivare. Grazie per la visione!